Due vetture sono state avvolte dalle fiamme nella notte a Taurisano. Il rogo è divampato intorno alle 4.30 del mattino in corso Umberto I lungo la strada che conduce a Presiccia Acquarica, distruggendo una Volkswagen Golf e una Ford Fiesta parcheggiate all'interno di un cortile privato. Le due auto coinvolte sono di proprietà del titolare dell'autoscuola Ponzetta e si trovavano parcheggiate al pian terreno dell'immobile, situato in un'area coperta con un'abitazione al piano superiore. Le fiamme hanno causato danni anche al muro esterno dell'edificio e un paio di infissi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ugento che hanno domato l'incendio impedendo che le fiamme si propagassero ulteriormente. La natura dell'incendio resta ancora incerta per l'assenza di tracce e indizi anche se si propende per la matrice dolosa. Infatti la modalità con cui il fuoco si è diffuso ha portato i carabinieri a sospettare che dietro l'incendio possa esserci la mano di un malvivente. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Taurisano coadiuati dai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Casarano. Al vaglio degli investigatori ci sono i filmati delle videocamere di sorveglianza installate nell'area circostante che potrebbero fornire indizi tali da chiarire la dinamica dell'incendio e individuare i presunti responsabili.